Benvenute e benvenuti al nostro TG. Il presidente Zaia ha pubblicato il suo quarto libro dal titolo Fa presto vai piano. Sottotitolo Basta che te te decidi. Ricordiamo che il primo volume che pubblicò fu Adottiamo la Terra, ma non ebbe un grande successo perché la Terra rifiutò l'adozione. Poi pubblicò Ragioniamoci sopra e anche qui la gente andava in libreria, leggeva il titolo, ci ragionava sopra e se ne tornava a casa. Il terzo libro fu I pessimisti non fanno fortuna e difatti noi che speravamo non scrivesse più siamo stati clamorosamente smentiti. Hai in mente di pubblicare un nuovo libro dal titolo Il congiuntivo questo sconosciuto. E adesso alcuni annunci pubblicitari. AAAA vedova di paracadutista vende paracadute praticamente mai usato. PPP par condicio. Barbiere farebbe frizione al meccanico e meccanico rifarebbe la frizione al barbiere. SSS sergente esercito americano cede donna USA. Bene per oggi è tutto speriamo ci sia una prossima edizione.